1974-2024, un traguardo lungo 50 anni tagliato dall'Arte Fiera di Bologna, anniversario significativo celebrato con l'emissione di un francobolo da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, celebrando inoltre la stagione straordinaria degli anni 70 a Bologna e il sessantesimo anniversario della morte di Giorgio Morandi. 196 gli espositori che hanno occupato i padiglioni 25 e 26 del quartiere fieristico bolognese, con la direzione artistica di Simone Menegoi e Denea Righi come direttore operativo. Inoltre, il 2024 segnala il ritorno di gallerie importanti, tra cui la Lia Rumma, Lorenza Agliarte e a Palazzo Gallery. Tra le sezioni la Main Section, tra arte storicizzata e contemporaneo, dalla quale spicca la Monitor Gallery Roma, Lisbona e Pereto, paese nell'Aquilano caratterizzato dall'appuntamento estivo della straperetana, anche in rappresentanza dell'artista abruzzese Matteo Fato, che si propone con nuove opere, in particolare con Credo solo alle favole, autoritratto con unicorno di Lego. Traffic Gallery di Milano, con il progetto Beautiful Things e Fading Away, crea un confronto transgenerazionale basato sulla tematica relazionale di Lorenza Boisi e l'abruzzese Daniele Di Girolamo. La galleria Vista Mare, invece, presente con due opere di Ettore Spalletti. Percorso è l'itinerario che lega gli stand, secondo un criterio tematico con linguaggio universario del disegno, poi una panoramica della pittura del XXI secolo italiana ed internazionale curata da Davide Ferri. Fotografia, immagini in movimento e punto di riferimento per collezionisti e appassionati in dialogo tra i media, primo fra tutti il video. Novità assoluta dell'anno, la sezione Multipli, dedicata in particolar modo alle opere in edizione di ogni genere a partire dai libri. La sezione editoria, non ultima per importanza, rappresentata anche dalla rivista Segno con sede a Pescara e sotto la direzione di Roberto Sala. Quattro giornate d'arte moderna e contemporanea, con ben dieci premi con riconoscimenti alla carriera di artisti ed emergenti, oltre alle varie figure del mondo dell'arte e della cultura internazionale.